Si terrà sabato presso l'Aula Consigliare del Comune di Olevano sul Tusciano l'evento Stati Generali delle Politiche Giovanili, informati oggi, liberi, domani. A partecipare il Sindaco Michele Volzone, l'Assessore alle Politiche Sociali Davide Zecca, l'Assessore allo Sport Simona Di Lascio, il Consigliere Regionale Vincenzo Maraio, l'Assessore Regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani e numerosi esponenti dei Forum dei Giovani Provinciali e Regionali. Obiettivo dell'incontro, coinvolgere i giovani e mettere in relazione persone provenienti da diverse esperienze per farle dialogare su tematiche importanti quali Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ambiente e Territorio.